Faccio una domanda forte, ha più dignità una prostituta che tenta di uscire dal giro, parliamo di un'ex comunitaria, non parliamo di rubi in particolare, gli elementi di prostituzione ci sono perché è stata attenzionata e questo è un dato di fatto, non è che è un'indagine vera, però parliamo di queste qui, ha più dignità una di queste ragazze sfruttate che cerca di uscire o un Berlusconi che alla fine si approfitta di questo sistema per soddisfare anche solo la sua corte di acore? La domanda di riserva? Mi sembra scontata la risposta, ha sicuramente molta più dignità una donna e guarda io purtroppo ne ho conosciute tante durante questi... Lei sa che si attirerà molte critiche se non ha paura? Non mi interessa, io preferisco sempre dire quello che penso. Però scusi, l'ho interrotta, ha più dignità una donna? Una donna che magari scappa, scappa dalla povertà delle persecuzioni civili, dalle persecuzioni religiose dei propri paesi, penso per esempio alle donne nigeriane che arrivano in Italia con chissà quali promesse o anche alle donne di paesi dell'est che arrivano qui con chissà quali promesse poi si ritrovano a dover stare sulle strade, a doversi prostituire per poi mandare magari qualche miseria a casa. Costrette, costrette. Ecco, e quando gli si dà una possibilità o quando intravedono un barlume di speranza e uscire fuori da quel giro lo fanno, non approva assolutamente, io credo che Berlusconi non abbia... Non abbia questa dignità? No, non abbia proprio una traccia di dignità. Non ce l'ha proprio una traccia di dignità. Mi sa che queste dichiarazioni vele, le ricostrano critiche delle donne PDL, molto forti. Io credo che le donne del PDL debbano interrogarsi, guardarsi allo specchio, chiedersi fra loro quante sono arrivate in politica perché magari hanno fatto l'igienista dentale, avevano la coscia lunga, avevano il sorriso folgorante, avevano i nonni invece per le loro capacità e per quello che magari hanno fatto per questo paese. Che si guardino allo specchio, che vengano al Parlamento in Europa a sentire cosa dicono di loro, le nostre colleghe e di altri paesi, perché vedi in altri paesi la concezione della donna in politica è nettamente diversa. Qua se hai la coscia lunga, se hai una quarta misura... E cosa dicono delle nostre deputate del PDL all'estero? Allora, sa cosa mi è stato detto a me, personalmente, per provocazione? Il giorno in cui noi ci siamo insediati, il 14 luglio dell'anno scorso, un collega del mio gruppo politico mi ha chiesto, ridendo, ma anche tu sei amica di Berlusconi? E io gli ho detto tua sorella sarà amica di Berlusconi. Amica cosa intendeva? Io glielo ho chiesto, ma il modo in cui me l'ha detto rideva, insomma, mi pare abbastanza come dire, ovvio a che cosa gli potesse riferire se consideriamo che... questo deputato, se ho ben capito, sottinvendeva che queste deputatesse delle PDL in Europa potessero avere dei rapporti non solo politici col premere, è corretto? Ma guardi, intanto non tutte, ma sicuramente per una parte di loro questi rapporti li hanno viscerato i loro stessi. Però non in quello che dice lei, nel percepito di questo signore invece... No, 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 noi ne abbiamo poi parlato col collega. E lui che ha percepito Reva? Ha percepito quello che noi, anzi lui ha saputo quello che noi abbiamo saputo dopo, e cioè si ricorda le famose fotografie quando scoppiò lo scandalo da Dario, eccetera, da noi è arrivato qualche giorno dopo, negli altri paesi fortunatamente la stampa è libera però scusi, se non ho capito il collegamento, lui le ha detto, anche tu sei amica di Berlusconi ed era chiaramente una battuta e la voleva chiaramente provocare, e questo è il dato di cronaca. Ma si riferiva alle liste che erano state fatte per le europee e sulle quali poi è intervenuta Veronica Lario dicendo che queste liste... Quindi secondo lui dal Parlamento europeo non tutte, ma alcune potrebbero aver usato vie, diciamo, anche fisiche per arrivare lì, se ho ben capito. Ma questo assolutamente, credo che le dirette interessate non possano smentirlo, anche perché ci sono state delle indagini, ci sono state addirittura delle intercettazioni e il loro nome è uscito fuori. Credo che il loro nome sia stato pubblicato addirittura da diversi giornali e loro hanno detto di che cosa si occupavano, c'era chi smistava le ragazze nelle stanze di Villa Certosa, insomma mi pare che non siano... Però lui questo l'ha associato al Parlamento europeo, quindi dice alcuni... Certo, perché sono proprio quelle persone, sono proprio quelle persone a cui si riferiva di... Io devo chiarire, se no poi non mi piace coivocare, quindi è chiarissimo. Quindi è un'immagine, scusi, terribile se per me, che in Italia non si sa, perché non si ha idea, il nostro provincialismo è gravissimo, non si ha idea di quanto grave si è percepito questa cosa e è aggravata dal caso Rubbi e caso Nadia, è corretto? Certo, secondo me peggiorerà... Assolutamente sì, ma è già peggiorato. Io fino a ieri sono stata in Libia in delegazione con delle mie colleghe portoghese e spagnole, le risate erano di nuovo Berlusconi, cioè ad ogni battuta. Tra l'altro le assicuro che mentre noi eravamo in albergo e attendavamo di spostarci, queste mie colleghe erano connesse sugli organi di stampa, sui loro, sulle loro testate, nei loro paesi, testate giornalistiche e c'erano delle foto imbarazzanti con delle dichiarazioni di Berlusconi e canti imbarazzanti e mi hanno chiamato e mi hanno chiamato e dice guarda, guarda, ne ha detta un'altra. Certo, certo. Queste sono veramente cose gravissime. Io invece vorrei, se mi permette, ritornare al riferimento di poco fa del mio collega. Vede, in Italia purtroppo non tutto viene detto... Che partito era, scusi, lo può dire? Non diciamo il nome. E del liberal democratico. Quindi c'è la potenza? No, no, noi siamo al centro, è il mio gruppo politico. Al Parlamento europeo c'è il... Che paese, scusi? Sarebbe identificabile. Loro è europeo, possiamo dire così? Cosa? Nord Europa. Nord Europa, sì, sì, Nord Europa. C'è un partito popolare che è quello di destra, poi c'è il Nalde, il gruppo politico a cui facciamo riferimento noi, che sono i liberal democratici, sono di centro, poi c'è S&D, poi c'è Lagù, i Verdi, insomma ci sono poi diversi spaccati politici. Lui ha detto una cosa, dicendomi, ma anche tu sei amica di Berlusconi. Ricordiamoci che questa frase è arrivata a luglio, quando per i due mesi precedenti siamo stati tartassati, lasciamo stare la da Dario, ma la composizione delle liste, vi ricordate quel padre che aveva minacciato di bruciarsi vivo perché aveva promesso Berlusconi un postilista della figlia, ma alcune donne di queste che sono al PDL, ora io vorrei fare un riferimento per esempio, l'onorevole Angelilli che è del PDL, è una donna straordinaria perché da tanti anni che fa politica si occupa di pedofilia, si occupa di bambini e si occupa comunque di tematiche veramente serie. rispetto ad una figura così forte di Roberto Angelilli, però mi pare che ce ne siano qualche altra, arrivate al Parlamento europeo perché magari note a Berlusconi, amiche di Berlusconi perché si smistava l'elezione. chiaro, 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 ha contestualizzato benissimo, lei dice dopo tutta questa ambrada non ci si può meravigliare se lui pensa che, lei ha ribadito, non tutte, ma alcune si hanno arrivate lì per meriti di letto, questa è la sintesi e lei ha premesso non tutte e non ci si può meravigliare che lui lo pensi, giusto? esatto e mi auguro, io spero che la ribellione all'intro di un partito arrivi da quelle donne per bene, che invece fanno politica da tanti anni. e per donne per bene. Chiudiamo con una cosa delicata, oggi il fatto quotidiano critica brutti liberati, perché si è affrettato a dire che non c'erano difetti formali, ecco perché volevo arrivare, ci stava arrivando lei, mi stava precedendo alla questione della questura, dice brutti liberati, insomma scrive il fatto quotidiano questa mattina, parla di comunicati rituali da parte del capo della procura, il quale si è affrettato a dire appunto che non c'erano rilievi formali e scrive il comunicato del procuratore sembra fatto apposta per venire incontro alla curiosa linea adottata dal capo della Stato, così lo quace quando c'è da raccomandare prudenza ai magistrati così silente quando i fatti segnalano diciamo così qualche imprudenza al prezzo. Il punto è questo e poi l'ultima domanda, mi sembra di capire che lui ha fatto questo comunicato, però quella dei minori invece è rimasta sulle sue posizioni, cioè ci sono delle cose non chiarite, volevo uno un giudizio su come si è mosso brutti liberati, però suo, non del fatto e due su che cosa non vede chiaro, se c'è qualcosa che lei non vede chiaro. Intanto non credo che il giudizio di brutti liberati sia assolutamente, come dire, intanto non era richiesto, intanto secondo me avrebbe fatto bene a non, perché questa è una forma di pressione adesso nei confronti della magistratura e nei confronti di chi ha operato e di chi continua ad operare. Il legge dice, sembra che abbia risposto, anche se non lo sappiamo, però appare come si abbia risposto a una pressione. Esattamente, è una forma di tutela, che ricordo, in certi casi andrebbe effettuata solo ed esclusivamente nei confronti di chi sta investigando, di chi sta cercando di capire, per cui io avrei preferito il silenzio e anzi una forma di tutela nei confronti della Procura. La seconda domanda, ma io credo che quello che ha affermato il giudice dei minori sia abbastanza chiaro, ha detto io non intanto dispongo e io avevo disposto che quella ragazzina venisse immediatamente affidata ai servizi, ad una casa famiglia, eccetera, invece è stata affidata dalla questura a questa ex igienista dentale, oggi consigliere regionale, che è stata mandata lì da Berlusconi a prendere questa ragazzina che è stata spacciata per nipote di Mubarak, forse in Italia non lo sanno, però Mubarak si è arrabbiato moltissimo perché è un uomo molto legato alla sua famiglia e ai suoi nipoti e ha dato incarico, pare che abbia dato incarico ai suoi legali di tutelare la sua immagine e quella della sua famiglia, quindi questo è anche un incidente diplomatico non da poco, ecco perché dicevo poco fa, ci vuole un badante istituzionale che gli suggerisca cosa dire e cosa fare e altro passaggio fondamentale ritengo veramente di pessimo gusto alzare il telefono e dire liberate questa ragazzina e rivendicare poi come ha fatto lui e dire ma io sono una persona buona, allora se non una persona buona eviti di dare disposizioni, di far arrivare disposizioni del genere, mi chiedo se per caso ha alzato il telefono per dire al Ministro dell'Interno e per dire agli altri esecutori di smetterla con le cariche per esempio nei confronti della popolazione dei tercini, però sono d'accordo con lei, tornando a butti liberati che con questi continui interventi chi invece poi deve testimoniare non è che si senta tanto sicuro, no anzi, anzi dice ma io, a me chi me lo fa fare, se ho tutti i contro e se persino loro lo difendono, cioè quello è il punto chiaro, senta le ripetute che faccio una domanda cattiva, non rivolta a questa cosa, butti liberati è stato eletto all'unanimità, un magistrato di chiara fama, magistratura democratica, però è stato anche eletto con i voti, sappiamo, dei consiglieri, non che questo sia un crimine perché ci mancherebbe altro, fa parte della PDL e quindi insomma è una domanda posta male, è una mia? No, mi chiedo oggi quanti uomini e donne possono veramente sentirsi liberi o sono poi in momenti come questi chiamati a pagare un conto o una cambiale in bianco. Le si rende conto che questa sua frase può suscitare polemica? Magari, speriamo, così si apre un confronto e così se ne parla perché in questo paese forse manca il confronto, manca il parlare delle cose serie e io reputo invece che in questo paese la gente debba essere libera. Insomma per chi dice che voi siete del partito della giustizia a tutti i costi invece lei dimostra che insomma c'è spirito critico e libertà di analisi, corretto? Ma ci mancherebbe, ma ci mancherebbe. Non è che vi appiattite sui giudici a questo? No, no, guardi io personalmente ho, e ne sono fiera, ne sono curiosa, personalmente ho portato le dimissioni a un procuratore capo che aveva fatto nel corso della sua carriera delle cose indicibili, spero di portarne un altro davanti al CSM in maniera definitiva, un altro ancora l'ho costretto, purtroppo è scappato davanti alle sue responsabilità, si è fatto trasferire anziché sottoporsi al... Insomma non accetto paura e non accetto appiattita su un istituto, anche perché è acclarato e gli stessi magistrati lo dicono, che c'è la magistratura sana e parliamo del 90%, 95% e ci sono i marci contro i quali voi lottate, cioè che questo è il punto. Sa che cosa secondo me dobbiamo far capire la gente, che ormai vede tutto assolutamente identico perché lo identifica come la casta, bisogna far capire che la casta non esiste più, non può più esistere e non può più esistere l'autodifesa da parte delle categorie a prescindere, io sono ben lieto ogni volta che sento dire a determinati magistrati che ci sono altri loro colleghi che non hanno fatto il proprio mestiere in maniera assolutamente chiara, in maniera limpida. Chiudiamo con l'ironia, se Berlusconi si scoprisse gay alla fine, forse alla fine avremmo un Berlusconi migliore, no? probabilmente si guardi, io sicuramente sarebbe molto più sensibile e sarebbe molto più utile, ma forse più appagato, forse anche più sereno, sensualmente sereno. Ecco, infatti perché è talmente ossessionato da questa tematica che a questo punto a qualcuno viene il dubbio. Va bene, dottoressa. Ancora, non è così.